Avete mai sognato di trasformare una passione in una carriera leggendaria? Amadeus ha fatto proprio questo, passando dai giradischi delle discoteche locali al palcoscenico luminoso del Festival di Sanremo. Ma com'è riuscito a diventare uno dei conduttori più amati d'Italia? Oggi vi portiamo nel viaggio incredibile di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, meglio conosciuto come Amadeus, per scoprire i segreti dietro al suo successo straordinario. Se siete pronti per questa avventura, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Ora, immergiamoci nella storia di Amadeus, dal primo vinile alla consacrazione a Sanremo. In una piccola città come Verona, un giovane Amedeo Sebastiani inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica, non sapendo ancora che il suo futuro sarebbe stato scritto tra onde radio e luci della ribalta. Da ragazzo, Amedeo sviluppa una passione per l'equitazione, grazie all'insegnamento del padre, ma è la musica a catturare veramente il suo cuore. A soli 17 anni, prende il coraggio a due mani e, accompagnando un amico a un provino, ottiene il suo primo lavoro come disc jockey. La vera svolta arriva quando il talent scout Claudio Cecchetto lo scopre e gli dà l'opportunità di entrare nel mondo della radio a livello professionale. Nel 1986, Amadeus fa il suo debutto su Radio DJ, dove non solo spicca per il suo talento naturale, ma inizia a forgiare legami duraturi con futuri giganti del settore come Fiorello e Giovanotti. Questi anni formativi non solo hanno plasmato le sue abilità, ma hanno anche impostato le fondamenta per una carriera che sarebbe presto esplosa nella televisione italiana. Sapevate che? Amadeus inizia la sua carriera come DJ in discoteche locali? Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere il prossimo episodio. Questi esordi non sono solo un capitolo del suo successo, ma rappresentano il terreno fertile dove Amadeus ha coltivato la sua unica miscela di carisma e competenza, che lo rende ancora oggi un'icona della televisione e della radio. Con la radio fermamente nel suo cuore, Amadeus non si fermò. Il suo debutto televisivo avvenne nell'anno 1988, quando partecipò a O1, 2, 3 Giovanotti, un programma su Italia un condotto dal suo amico e collega Giovanotti. Questa esperienza fu solo l'inizio di una lunga e fruttuosa carriera nella televisione. Nell'anno 1990, Amadeus assunse il ruolo di conduttore in Aung DJ Television o su Italia 1, segnando la sua vera e propria ascesa come volto televisivo. In quel programma, non solo condivideva la musica del momento, ma interagiva con il pubblico in modo genuino e coinvolgente, una qualità che presto divenne il suo marchio di fabbrica. Rivivi le emozioni Amadeus ha condotto il Festival di Sanremo per quattro anni consecutivi, regalandoci momenti indimenticabili. Emozionati ancora con i momenti più iconici, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderli. La sua capacità di connettersi con gli spettatori e il suo stile inconfondibile attirarono l'attenzione di altri network. Nel 1993, Amadeus fu chiamato a condurre il Love Festival Bar, un'iconica trasmissione musicale estiva, insieme a Claudio Cecchietto e Federica Panicucci. Questo programma, che dominava le serate estive italiane, rafforzò ulteriormente la sua popolarità, specialmente tra il pubblico giovane. Non era solo la sua presenza televisiva a essere richiesta, ma anche la sua capacità di portare freschezza e novità ai formati tradizionali. Nel 1996, ha presentato Out the Look of the Heroes su Italia 1, dimostrando la sua versatilità nel gestire eventi di grande visibilità. Ma uno dei momenti più significativi della sua carriera televisiva avvenne nel 2020, quando Amadeus fu scelto come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. La sua conduzione non solo rinvigorì il festival, ma attirò record di ascolti, consolidando il suo status di icona televisiva. Ogni passo nella sua carriera televisiva ha dimostrato che Amadeus non era solo un conduttore, ma un vero innovatore capace di trasformare qualsiasi show gli venisse affidato. La sua impronta è rimasta evidente in ogni programma che ha condotto, rendendolo uno dei pilastri indiscussi della televisione italiana. La consacrazione definitiva di Amadeus nel panorama televisivo italiano arriva nel 2020, con l'incarico di conduttore e direttore artistico del settantesimo Festival di Sanremo. La sua prima edizione, che si svolge dall'8 all'11 febbraio 2020, segna un capitolo storico. Amadeus non solo porta al festival il suo inconfondibile stile, ma introduce anche novità audaci, come la scelta di co-conduttori diversi per ogni serata, unendo volti noti dello spettacolo e dello sport. Un aneddoto che ha colpito il pubblico durante questa edizione è stato il modo in cui Amadeus ha gestito l'imprevisto di un artista che si è ammalato poco prima dell'esibizione. Con professionalità e un pizzico di umorismo, ha riempito il tempo necessario, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni dal vivo con il sorriso. La sua capacità di mantenere il pubblico collegato e interessato, anche nei momenti di potenziale crisi, ha rafforzato la sua reputazione di conduttore eccezionale. Le edizioni successive del festival sotto la sua guida, nel 2021, 2022, 2023 e annunciata anche per il 2024, vedono Amadeus consolidare ulteriormente il suo ruolo. Ogni anno, introduce elementi innovativi che tengono il format fresco e interessante. Per esempio, nel 2021, ha gestito l'edizione in piena pandemia globale, portando avanti lo spettacolo senza pubblico nell'Ariston, una sfida che ha richiesto notevoli adattamenti logistici e stilisti. Una delle curiosità più interessanti è il modo in cui Amadeus ha scelto di omaggiare le grandi figure della musica italiana, invitando sul palco artisti emergenti e leggende viventi per duetti indimenticabili. Questo non solo ha valorizzato la tradizione musicale italiana, ma ha anche creato momenti televisivi di grande impatto emotivo. Durante la conduzione di Sanremo, Amadeus ha spesso condiviso storie personali e riflessioni, rendendo ogni serata non solo un evento di intrattenimento, ma anche un'occasione di connessione personale con il pubblico. Per esempio, nel 2021, ha dedicato una canzone a suo padre, commuovendosi sul palco, un momento che ha toccato il cuore di molti telespettatori. Inoltre, sotto la sua guida, il Festival di Sanremo ha visto Ascolti Record, confermando la capacità di Amadeus di rinnovare e rivitalizzare un evento così iconico. La sua direzione artistica è riuscita a catturare l'essenza della cultura pop italiana contemporanea, rendendo il Festival rilevante e attuale ogni anno. Amadeus ha dimostrato che il suo tocco non si limita alla presentazione, è un vero regista di palcoscenici, capace di trasformare il Festival di Sanremo in una celebrazione della musica italiana, apprezzata da milioni di spettatori. Oltre alla sua carriera televisiva e radiofonica, la vita privata di Amadeus è ricca di momenti significativi e successi personali. Sposato con la ballerina Giovanna Civitillo, il loro incontro avvenne durante la conduzione del programma All'Eredità House Urai 1 nel 2003. Il 18 gennaio 2009, nasce il loro figlio José, nome scelto in onore di José Murillo, allenatore allora dell'Inter, la squadra del cuore di Amadeus. Oltre le luci della ribalta, Amadeus è un uomo dai mille talenti e passioni. Scopri le curiosità e i lati nascosti di Amadeus che non conoscevi, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Amadeus non è solo un conduttore di successo ma ha anche dimostrato le sue capacità imprenditoriali. Ha scritto libri e partecipato a iniziative imprenditoriali, ampliando il suo impatto al di fuori dello schermo. Inoltre, è noto per il suo impegno filantropico, partecipando attivamente a campagne di beneficenza e eventi di raccolta fondi, che riflettono il suo desiderio di contribuire positivamente alla società. La sua passione per l'equitazione, ereditata dal padre, resta una parte fondamentale del suo tempo libero, dimostrando come gli hobby giovanili abbiano continuato a influenzare la sua vita adulta. Questi aspetti della sua vita personale aggiungono profondità al personaggio pubblico, mostrando un uomo di molteplici talenti e passioni. Da semplice DJ a icona televisiva, Amadeus ha tracciato un percorso ineguagliabile nel panorama mediatico italiano. Dal suo debutto a radio DJ nel 1986 fino alla direzione artistica del Festival di Sanremo nel 2020, ha continuamente reinventato il modo di intrattenere. La sua capacità di connettere con il pubblico, la dedizione al lavoro e l'impegno sociale delineano la figura di un professionista completo e amato. La sua storia è un esempio brillante di come talento, passione e umanità possano fondersi per creare momenti di pura magia televisiva, influenzando positivamente la cultura pop italiana.